In questo ora devo dire che non trovo pace, non trovo, c'è come un bisogno di moltiplicare anche i lavori, è una roba curiosa. Ma dentro come, in questo caso sì, veramente un fuoco, lui sta finendo di mangiare, si mette a schizzare, di notte si sveglia e dice no, devo fare questa cosa. Tu, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove metri. Che passano? Fai come gli avevano le sanzioni così. Ora, su questa? Sì, questa. Sì. Non sarebbe male. Naturalmente era grande, deve essere grande, la superficie è la stessa. Sì, questa è la stessa. però non era sicuramente più ampena, ma la stessa è sicuramente non c'è ancora più ampia. Invece anche in Dibai, Abu Dhabi, ci sono appena molto più ampia. Il nostro via è questo, la nostra moschea è proprio qui. Nel disegno dello spazio sacro riesce a dare il meglio di sé. Curioso come partendo da una tipologia apparentemente particolare, rara, quella del sacro, dentro una società secolarizzata, invece io abbia trovato delle ragioni più profonde del mio mestiere stesso. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS